Sembrerebbe essere legato ad una sorta di regolamento di conti, probabilmente derivato dal mondo dello spaccio tra personaggi che solo per caso si sono ritrovati sul lungomare Sirene di Tortoreto, e nello specifico all'interno di uno stabilimento balneare usato dalla persona inseguita come rifugio. Si fa sempre più chiaro l'episodio che si è verificato dopo la mezzanotte nella zona centrale della riviera di Tortoreto, dove un giovane albanese di 24 anni e richiedente programma di protezione è stato ferito alla gamba destra da un colpo di pistola a calibro 7,65, sparato a pochissima distanza. La vicenda sulla quale stanno idagando i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e del reparto investigativo provinciale nel suo sviluppo è stata ricostruita. L'albanese ferito pare che fosse inseguito da alcuni connazionali, tre che lo stavano braccando e un quarto rimasto forse in macchina. Tutti individuati che vivono tra Martinsicuro e Alba Adriatica. Noi non abbiamo notato l'ingresso di questo ragazzo perché è una persona normale che è entrato e è andato direttamente nella rotonda sul mare e non c'era niente di che. Dopodiché questo ragazzo a un certo punto abbiamo visto che si è alzato di scatto, è andato sul bancone strillando chiamati carabinieri, chiamati carabinieri. Quindi nessuno l'ha preso in considerazione perché pensavamo che fosse uno scherzo, invece lui poi ha fatto il giro, è entrato dentro al bar proprio dove c'erano anche due nostre cameriere a preparare dei cocktail. Nel frattempo da strada sono corse tre persone all'interno del locale, una delle quali ha cacciato una pistola e ha sparato un colpo a questo ragazzo che si stava rifugiando dietro una colonnina su cui c'è il granitore o lo spinatore. A quel punto non so più niente perché c'è stato lo scappa-scappa generale anche nostro e ci siamo spaventati tantissimo. Abbiamo soltanto visto che i tre hanno sparato e sono scappati direttamente, mentre l'altro ragazzo dopo qualche secondo, roba di 20-30 secondi, è scappato anche lui, ferito. La cosa che mi preme dire è che sono persone che anche gli stessi inquirenti hanno detto che sono di un'altra città, qui Limitrofa, che è Martinsicuro e che non abbiamo mai visto nel nostro locale. È successo soltanto a nostro avviso che un ragazzo si è voluto rifugiare in mezzo alla folla, pensando che in mezzo alla folla non sarebbe successo niente. Invece non hanno avuto nessun timore di questo. Sulla vicenda l'amministrazione comunale del Comune Costiero si è detta tranquilla, definendo l'accaduto un fatto increscioso e isolato. Siamo dispiaciuti, però siamo anche tranquilli, nel senso che pensiamo che sul territorio comunque il controllo da parte dell'ente comunale, quindi con la polizia locale, ma anche in collaborazione con la forza dell'ordine, c'è. Non vogliamo minimizzare il fatto, ma siamo tranquilli. Non dimentichiamo che sono stati assunti dieci vigili proprio per essere presenti sul territorio, non solo. In caso di eventi, ma anche durante le serate, durante il pomeriggio, la mattina. Quindi assolutamente siamo tranquilli. Non è dello stesso avviso Nico Carusi, agente di polizia e consigliere comunale di opposizione tra le file della Lega. Bisogna accendere i riflettori sempre, tenere l'allerta alta perché paesi piccoli, medio piccoli come il nostro purtroppo sono oggetto, obiettivo, meta di conquista da parte di soggetti che consumano sul territorio attività pregiudiziali e comunque attività di microcriminalità. Non bisogna creare allarmismo, ma bisogna capire che la microcriminalità agisce, si pensa di essere indisturbata e quindi pene severe per chi reitera nei reati.